ok dai, andiamo a fare questo pallone del fico pallone del fico c'è un tempo particolare, molto bello un po' chiuso sopra, ventilato, ma bello la montagna proprio da Vesuvio grande Vesuvio, si parte, vai un po' chiuso, si parte, vai un po' chiuso, si parte, vai un po' chiuso, si parte, vai un po' chiuso 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 Grazie a tutti.